Qual è il tuo nome? Matei Valkus D'ora sei? D'Angersa D'ora? D'ora 15 Com'è la sua esperienza? Non è la sua prima esperienza, l'anno scorso ho già fatto altri tornei e che comunque cercherà ovviamente di dare il massimo, è un'esperienza che finora gli piace molto, trova il circolo molto bello, si trova veramente molto bene. Si è già scontrato con l'avversario della Grecia, sa che comunque sarà molto difficile perché il livello dei giocatori è molto alto ma comunque farà del suo meglio. Qual è il tuo giocatore preferito? Il mio giocatore preferito è David Ferrer perché utilizza la sua stessa racchetta, è alto quanto lui, ha quasi 28 anni quindi è un ragazzo più o meno come lui e gli piace molto perché è proprio un modello da seguire. Per lui è una grande fonte di ispirazione. Quali sono le forti del tuo giocatore e invece è quello che hai bisogno di migliorare? Quali sono le forti del tuo giocatore? La mia forti del tuo giocatore sono sicuramente la velocità nel campo, il suo rovescio che mette in difficoltà parecchi i suoi avversari, mentre ciò che deve migliorare sono sicuramente il colpo a volè e anche lo smash, il servizio. Il mio giocatore è un'altra cosa che mi ha bisogno di migliorare con il mio giocatore e il servizio. Il nostro giocatore è un giocatore per il nostro giocatore, che è un giocatore per il nostro giocatore, che è un giocatore per il nostro giocatore.